Le forze dell'ordine, ed in particolare l'arma dei carabinieri, si ritiene soddisfatta del comportamento dei cremonesi durante la notte di Capodanno. Tranne qualche chiamata per l'uso di fuochi pirotecnici, non vi sono stati particolari interventi. Un solo arresto, non dovuto alla violazione delle norme per contrastare il Covid-19, e 14 contravvenzioni. Oltre 50 le pattuglie presenti sul territorio. Abbiamo avuto un bilancio fortemente positivo per quanto riguarda i controlli. Per quanto riguarda il giorno 31 e il giorno 1, questi numeri si sono ulteriormente ridotti. A riprova, così come anche constatato da altri organi di polizia, nonché anche dalle autorità di riferimento, sostanziale forte adesione da parte della cittadinanza a quelle che erano state le prescrizioni. Noi abbiamo avuto un territorio fortemente pervaso da un controllo, un controllo territoriale che nella sola giornata dell'1 ha avuto oltre 50 pattuglie dell'arma distruite nell'arco delle 24 ore, che hanno fermato effettivamente poco più di 70 persone, senza elevare nessun tipo di sanzione. Se escludiamo, nella giornata invece del 31, le persone trovate a organizzare una cena non autorizzata nel territorio cremasco. Un solo arresto non dovuto a violazioni delle prescrizioni, un arresto dovuto a maltrattamenti in famiglia, in esecuzione di un provvedimento dottore giudiziaria, già richiesto dagli organi investigativi. La notte di Capodanno si è svolta senza incidenti, con un numero di feriti assolutamente nullo, senza emergenze e senza richieste di interventi, se non quelli di alcuni cittadini che hanno riscontrato disturbo all'equità pubblica da parte dell'esplosione di alcuni artifici pirotecnici in ambito pubblico. Nell'ambito delle 122 persone controllate sul territorio, 14 sono state riscontrate in violazione degli obblighi previsti dal decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi una violazione, tutto sommato, non numericamente rilevante.